Portante del set 5-9 Fein L'injezione di Russell De Cecco Va da Caliberda Ci mette entrambe le mani in difesa Grevennico Appoggio perfetto di Giovi E poi Il ragazzo di Santa Fe Lucio De Cecco In prima persona per il 2-5 Eh sì In questo pallamento Che Ludovica D'Aglia Della Sania Internazionale